i giochi invece adesso parliamo di cosa Maria? Parliamo di libri come ogni domenica l'appuntamento è con Bibliotech di Gianluigi Bonanomi, sentiamo sentiamo. Bibliotech Ciao amici di Netcafè, benvenuti a Bibliotech, la rubrica dei libri di carta e libri digitali in questo caso vi parlo di un manuale ponderoso che è stato scritto da Gina Trapani nome di chiare origini italiane, in realtà lei è americana, il manuale si chiama come potete vedere Upgrade Your Life, non dobbiamo nemmeno fare la fatica di tradurlo perché il sottotitolo è Migliora la tua vita. Chia Gina Trapani è molto famosa in internet perché è la fondatrice di Lifehaker.com, un sito appunto di Haking, vale la pena spendere due parole su questo termine molto diffuso in informatica. L'Haking è l'arte di fare qualcosa meglio e con più astuzia, Lifehaking sono tutti quei trucchi che permettono di risparmiare per esempio tempo o denaro con la tecnologia. Questo è proprio un manuale che raccoglie il meglio di Lifehaker.com e quindi ci sono in 600 pagine 115 trucchi e ve ne voglio presentare uno per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Si parla sempre di posta elettronica che fa perdere tempo, benissimo, Gina ci propone un trucco per tenere sempre la posta in arrivo sgombera. Lei dice quando arriva una mail la dovete smistare in tre cartelle. Le tre cartelle potremmo chiamarle per esempio archivio, attesa e seguito. In archivio potrebbero andare tutte quelle informazioni che non ci servono subito ma nel lungo periodo, come per esempio un numero di telefono. In attesa possiamo mettere quei ping pong, quegli scambi che riguardano comunque degli impegni abbastanza ravvicinati, quindi scambi con i colleghi per esempio o con gli amici per organizzare una serata. Mentre in seguito ci sono tutte quelle informazioni che ci possono servire nel breve periodo, come per esempio un numero di tracking per un acquisto. Una volta che ci è arrivato il nostro pacchettino possiamo appunto cancellare questa email. Come questo, ripeto, ci sono decine e decine di altri suggerimenti e il libro è consigliato a un unico problema, nel senso che essendo così ponderoso Epli ha deciso di farlo pagare 29,90 euro. È un po' caro però ci sono veramente una marea di suggerimenti, quindi io ve lo consiglio, vi ripeto, Gina Trapani, Upgrade Your Life. Grazie e alla prossima!